Pronto? Bravato? Sì, io pronto. Rò, buon gustino, Rò. Ah, gustino, chi è? Dicemi. Ero, io. Allora, Rò, sei di un po' lato il capo. Come sei di un po' lato? Che è successo? Sei portato le macchie, lì, rubivo il tuo tia a Palaparte. Eh? E' bello? Eh, come faccio? Ma mi è arrivato alla via Bona, a Cugiavacarata. Eh? I macchie sono fermate tutte le patte, ho camionato giù. E sei stancato, se sei macchie? No, no, sono stancato. E' che... E' che... E' che... E' che... E' che non terra, i macchie? Sì, e' non capito, eh... E' che si incontrate, perchè i macchie non terra, ma sono macchie. e' non qui. Eh? Io lo sazio! Che vi voglio fare una fine macchina erano levate la casa, però mi lo dicono tutti a terra, io lo so perché, ma come l'abbia toccata la via Bona? Scusa, Gussi, quando camminavo nella terra, lì erano normali? No, tu puoi andare via, come sei arrivata la via Bona, dove c'è tutte queste macchine, che ora c'è tante macchine? Eh, hai capito, dico, quando camminavo nella terra, lì erano normali, ora sono passata, invece dicono all'asparto Si, ricca la terra è mai vista una cosa di chissi Hai capito che viene allora? Che puoi essere? Hai capito, ma nella mattina mi chiamavo la po' di giocattata, diciamo Oii, Gussi, ce l'ho usata in terra per la neve, ero gettato usata Oii Mamma mia, ero gettato usata E' quando arriva Pasqua e io fa la palla Aspetta, aspetta, giuriamo, aspetta, aspetta, viene intanto se puoi barazzare con la cappa, camminare a salta Aspetta, la piccola camoccia mi ha lasciatata e poi ne sentimo rotto E' un camminare a casa e magari suonano, io non aiutoci più che fare Non so, sono contenta E lì, fa le scine Dice, ma, spostate dai voi, se c'è di cano in terra che fai giù, dici Ma, non... Ma, ma, sa che i macchi alzano la cappa a palla, eh? Ha pensato, ora è male se scendono le macchine, che ha saltato la cappa Ma, ma, le macchine si vengono, eh, per non portare a fare la palla quella cappa a salta Io lo so, c'è un problema, lo torbano, gamba! Giura, giura che hai chiamato la polizia, chiamato la sattata per dire che mi dicono perchè mi vanno a risolvere, o mi hanno a lavare, o c'è un tappeto, mi hanno a fare la palla perchè non è che io posso stare con le vacche che dicano a terra e bloccano tutto il muro, già! Questo è che ti faccio sapere roba, già! Vanno a sapere subito! Già, ti faccio sapere, già, già! Buongiorno, Rocco Doria signor, candidato alla regione, governatore, buongiorno, sentite, io ho un problema, vedete come dovete fare, per piacere! Sì, vedete, la polizia stradale, vedete! Sì, sì, la polizia stradale, sentite una cosa, ho chiamato perché praticamente Giustino, mio cugino, no? Mi sta portando le vacche a San Giovanni, che su una cosa, all'Orica, verso l'Orica, e praticamente, quando l'hanno lasciata a terra, no? Dovete già venire a prendere il forestale, signor? No, 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 un cittadine, un cittadine, un cittadine, un cittadine, come parlare, come andava? Per piacere che c'era il nuovo problema con lui, un cittadine, un cittadine, un cittadine, un cittadine, a prendere un buon arbolo, sentite una cosa, e allora, qui è andassata a terra, è arrivata su una super salta, quelle cose, quelle vacche, e cazzo le vacche, hanno basciato a capo, e hanno cominciato a mettere in terra! E quindi, noi che dobbiamo fare, scusate? Che capite di fare? Cioè, forse c'è lo coso, ci avete diventato usato, per la nive, no? Per fare squagliare il viaggio! Sì, non lo riva! Ed era unissimo coso, usava pure le russate, che vi piacere, e hanno cominciato, hanno lasciato la capo e le caratterre sono giù, non si muovono più i lanini, capite che voglio rire! Signore, chiamate l'ANAS, chiamate i cantonieri, fate mettere la segnaletica, ma noi, noi siamo dell'arbolizia di canale, non so se avete capito! Segnaletica? Non so se avete capito! Ma la polizia si muovono! Non ho capito! E l'usaccio! E torna un'altra volta e mi dice, cosa? Ho chiamato io! E la polizia mia che ne si! Avete vedere voi, polizia sciatave, che guardate la sciata! Capite che voglio rire! Ma noi dobbiamo essere indatellati se ci sono problemi di macchine! Problemi di macchine! Le macchine si è fatte in una fila che sta russonendo! Forse una fila di 48 km si è fatta! Perché le macchine si fermano mentre la via che rischiano con la lingua rischiano in terra! E le macchine non possono passare! Ha capito che voglio rire! Come andate! E le macchine! Pei! 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 Ce n'ho mai come! L'Agostino mi ha chiamato! Mio cugino! Ma... Aspettate! Ma... Scusate un secondo! Ma da dove state chiamando voi esattamente? Da Fedefano eh! Da Fedefano eh! Da Fedefano eh! Non ho capito! Io sono a San Giovanni! A Palla Palla precisamente! Ho capito ma 43 km di cosa ma che state scherzo? Sapete quando sono... Ma che state dicendo? E 43... 48 mi pare che ho detto io! E... E... Ma che si fermate forse... Le cose... Le bbf... E... Perché... Praticamente un camion... Si sente fatto tutto il mondo! Eh! Ma... Vedete... Ma... Facite una cosa... O ci è mandato qualche autobottamento... Quelle... Quelle pompe idrate... No? E lavano... Asciatta all'asfalto! O lavano bello bello... Che usato in San De Senga! Oppure non lo so... E... Cosa è la... Che cosa andano sulle vacche... Ci facete stendere in un tappeto... Fino a San Giovanni... E le fa camminare su un tappeto... Capito? Che voglio dire... Com'andate? Sentite... 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 Sento! Però lo avete muovere però! Ma... Ma voi state scherzando? Cioè... Le vacche... Leccano a terra... E' una cosa che... Questo... Non si può sentire proprio... Non si può sentire! Ce li usate... C'avete chiestato usata... Per la nuova e per il viaggio! e le cose sembrano un sapore rosale e li cano in terra a capullazza di ciumi signore ascoltate io ho l'impressione che voi non ci state tanto bene devo chiamare qualcuno per farvi venire a soccorrere a voi secondo me queste vacche non era mai successa questa cosa che ci fanno le vacche sulla strada scusate e poi l'esercito di vacche quante vacche sono? sono 30 vacche voi voi non ci state bene vedi a caso io sono candidato alla legione io sono candidato al governo no 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 aspetta come andate non ti voglio puntare sulle vie perché io sono candidato alla regione signor governatore non ti permette di dire queste cose che ti faccio trasferire in centino alto Biric guarda se ci fosse meglio se stiamo un po' più calmi e se cerchiamo di capire qual è realmente il problema voi volete inviare una battuglia? ma andate a chiedere che voglio dire no io sono battuglia ma avete a spiegare che me ne faccio la battuglia non è che può spostare le vacche come si muoveva che mi sapeva che sono passate con la capo sono caponita in terra che avevano usato si fa assata o ci hanno mandato un tappeto lungo un bel tappeto russo magari oppure hanno mandato con un autobottamento a far lavare assata maresciato io non posso perdere tempo venite e vado a fricare sulle perché si è fatta lavare in una villa che noi che ne sono che c'è il cugino Magustino che sta gli stimando sta facendo ieri ma le parole che sentono pure cose a osto è fatta è fatta è stato numero è pronto eh pronto si no no è un attacco è tutto malcolo non ho capito non ci sento a voi pronto mando una pattuglia ma sono sicuro che voi mi state sbagliato secondo me vabbè ma una pattuglia capo tu le cui io così via una battuglia vediamo se stiamo sbagliando pure no però mi ho vinto e va che danni a cogliere che mi fai un vaccino non ho capito che voglio dire vabbè vabbè arrivereci ma andate subito a battuglia state mi calmo si mi calmo quando quando io mi calmo eh giure giure mi mangia me buona serata a te va 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 vuoi che te colpa romperà la puncia buona serata